Ciao guerrieri di luce, oggi voglio iniziare una nuova rubrica dove voglio parlarvi delle affermazioni perché effettivamente le affermazioni sono molto importanti. Chi è già nel settore spirituale sa bene il potere del pensiero e soprattutto anche il potere della parola e quindi ogni volta che abbiamo un intento, un obiettivo da raggiungere non dobbiamo soltanto limitarci a pensarlo ma dobbiamo anche esprimerlo attraverso il suono della nostra voce, esprimerlo all'universo, al mondo esterno attraverso delle affermazioni potenti, delle affermazioni di potere come si dice in gergo sciamanico. E oggi voglio iniziare con qualcosa di semplice dato che ormai stiamo andando verso l'estate e molte persone hanno come obiettivo quello magari di rimettersi in forma e di perdere peso ho ideato una formazione di potere che può aiutarvi molti di voi a raggiungere questo questo traguardo. E l'affermazione è la seguente. Giorno dopo giorno il mio corpo è sempre più snello e in forma. Seguo una dieta sana con piacere e senza sforzo alcuno. Ecco il consiglio è quello di ripetere spesso questa affermazione proprio ad alta voce magari quando vi trovate non so in bagno davanti allo specchio quando vi state preparando la mattina prima di andare al lavoro o magari anche prima di andare a letto e soprattutto quando magari subentra qualche tentazione che potrebbe distogliervi dal vostro traguardo. Ciao ragazzi alla prossima!